è la festa della pizza è veramente bellissima su questo aspetto diciamo è sempre bello sentire i ragazzi di città finale che suonano si impegnano per fare qualcosa una bella serata tanta gente è ben riuscito ci auguriamo di migliorare anno per anno grazie a tutti coloro che hanno partecipato grazie a voi di USER TV un abbraccio a tutti all'anno prossimo approfitto per fare un invito a tutta la città di Cervinara domani sera e dopo domani sera c'è la festa di Sant'Antonio a Valle in modo particolare domenica la messa alle 10 al pomeriggio alle ore 18 e poi alle ore 19 la processione di Sant'Antonio quindi invito a partecipare la processione di Sant'Antonio che è il momento culminante della festa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti